Eccoci in studio con la nostra maratona Donne e lavoro, raccolgo il testimone dalla nostra Valentina Buzzi ed entriamo così nella fascia serale e notturna. Lo facciamo con un primo contributo, tornando appunto sul tema dell'occupazione femminile, lo facciamo grazie al nostro ospite che vi presento in collegamento e che è Antonella Ricci, consigliera nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e coordinatrice della Commissione delle Politiche Giovanili e di Genere dell'Ordine. Buonasera e benvenuta. Buonasera, buonasera a voi. Ecco, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha un occhio privilegiato sull'occupazione in generale e proprio anche sull'occupazione femminile, tant'è che giusto qualche giorno fa è uscito un nuovo report che, insomma, leggo, si intitola occupazione femminile, si allarga il divario con l'Europa. In Italia calo doppio del numero di occupate rispetto alla media europea. Tra aprile e settembre sono stati persi 402 mila posti di lavoro. Ecco, dottoressa Ricci, a lei un primo commento rispetto a questi dati che, insomma, direi che si commentano anche da soli. Sì, in effetti l'Italia è sempre stata il panalino di coda dell'Europa, diciamo, noi abbiamo sempre avuto un problema strutturale rispetto all'occupazione femminile. Lo scoppio della crisi della pandemia ha sicuramente fatto saltare i programmi della strategia Europa 2020 che prevedeva un tasso di occupazione al 67% anche per quanto riguarda l'Italia. Purtroppo questo non è avvenuto e, come diceva appunto giustamente lei, abbiamo perso il 4,1% di lavoratrici italiane rispetto al 2,1% della media europea. Solo la Spagna ha fatto peggio di noi, diciamo. Quindi il dato più eclatante è il differenziale di genere uomo-donna. Noi abbiamo l'1,7 punti percentuali appunto di differenza tra uomo-donna, mentre la media europea è solo lo 0,4%. Abbiamo sicuramente dei problemi strutturali che ci portiamo dietro da tanti anni, ma oggigiorno rileviamo come Fondazione Studi che perse 100 posti di lavoro, in media europea sono 46 donne, in Italia sono ben 56. Parliamo della Francia che perdono 44 posti le donne, la Spagna 48, noi 56. Abbiamo sicuramente delle situazioni di fragilità, delle criticità noi in Italia che non hanno aiutato le donne, soprattutto per il fatto che sono occupate in certi settori che sono stati più colpiti dalla pandemia. Tutto il sistema del turismo, della filiera del tempo libero, piuttosto che la ristorazione. Noi abbiamo veramente avuto un calo anche per quanto riguarda le micro-imprese al femminile. E questo è uno dei grossi problemi che abbiamo comunque noi in Italia. Non ci sono le strutture per far sì che le donne possano veramente dare il loro contributo dal punto di vista lavorativo. Non ci sono le strutture che supportino il caregiver che è comunque sempre affidato alle donne. e anche durante la pandemia abbiamo visto, a parte i bambini a casa da scuola, che appunto avevano necessità di essere supportati, anche si pensi alla DAD con i bambini di sei anni che dovevano avere comunque qualcuno a casa al loro fianco e poi qualcuno era la mamma, giustamente, ma anche per gli anziani, perché le badanti in questo periodo sono state allontanate dalle case per paura dei contagi e quindi il vero problema era di dare supporto al sistema famiglia e le donne hanno dovuto spesso rinunciare anche alle loro attività lavorative. Certo, quindi insomma si può dire che ci sia chiaramente un problema endemico che riguarda l'Italia, perché la pandemia, come sappiamo, ha interessato tutto il globo, diciamo così, per cui è un problema che ci portiamo dietro e che questa emergenza sanitaria non ha fatto altro che portare alla luce più in modo chiaro. Sicuramente noi abbiamo problemi da tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda le lavoratrici autonome che le lavoratrici dipendenti, soprattutto per quanto riguarda le dipendenti, ma pensiamo anche alle lavoratrici autonome che hanno perso il 6,4% dei posti di lavoro rispetto alla media europea che è l'1,6%. Guardo i dati per non perdermi tra i numeri, ma noi in Italia abbiamo delle grosse criticità anche da questo punto di vista. Consideriamo che il 17,5% delle donne italiane autonome sono monocommittenti e questo le espone nel momento in cui l'unico committente magari entra in crisi e non hanno la possibilità di diversificare le loro attività. Quando il loro committente non consente loro di poter continuare l'attività, anche loro perdono necessariamente la possibilità di lavorare. E questo la dice lunga sul fatto che invece in Europa questa percentuale è solo del 9,2%, quindi abbiamo caratteristiche tutte italiane noi, che non consentono però di far sì che le donne possano aumentare come numero anche nei posti di potere piuttosto che di direzione. Abbiamo un problema da un certo punto di vista anche di cultura, perché le donne non occupano posti particolari anche perché non hanno determinate formazioni. Pensiamo ad esempio agli ITS, che in Italia sono poco sviluppati, ma che consentono agli uomini, perché partecipano più che altro in genere maschile, hanno più possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Le donne non sono attratte o comunque non hanno dei percorsi formativi per poter accedere a questo tipo di supporto che potrebbe dare loro un'opportunità in più. Ma ecco, ma quali misure si potrebbero prendere in questo senso? Ricordiamo come Ordine dei Consumenti del Lavoro avete anche un canale privilegiato di dialogo con il Ministro del Lavoro, adesso appunto abbiamo un nuovo governo, un nuovo Ministro, cosa si sente di dire? Ma noi, dalle analisi che noi facciamo, da sempre diciamo che ci sono delle forme strutturali che devono essere necessariamente prese adesso, in questo momento, a maggior ragione. Noi da sempre, al fianco delle aziende, cerchiamo di aiutare anche i datori di lavoro per indirizzarli su attività che possano aiutare anche le donne. Oggi come oggi, noi, come posso dire, andando anche a parlare spesso anche in Senato, noi siamo in audizione e diamo suggerimenti al nostro apparato legislativo delle attività che devono mettere in atto. Noi lo facciamo nel nostro piccolo con i datori di lavoro, perché suggeriamo spesso una riorganizzazione delle attività che possano comprendere anche diverse modalità organizzative, sia di orari che di luogo di lavoro. Spesso possiamo suggerire ai datori di lavoro, ad esempio, una flessibilità nell'orario del lavoro, quindi una flessibilità di entrate e di uscita del lavoro, piuttosto che l'utilizzo dello smart working, che adesso ha avuto un grande utilizzo da parte di tutti, perché era anche consigliato dai DPCM, diciamocelo, però è che era quindi anche obbligatorio. Ma in questo momento potrebbe essere opportuno e forse anche strategico pensare a fare delle strutture a carico del pubblico che consentano di conciliare meglio vita e lavoro delle lavoratrici, più vicino a casa, quindi utilizzare lo smart working, ma poter svolgere la loro attività anche presso degli hub, ad esempio dei co-working che possano consentire alle donne di comunque continuare ad occuparsi della cura dei propri familiari e dei figli, ma anche di poter sviluppare le attività lavorative e anche di avere una progressione in carriera con modalità diverse, che possono essere appunto lo smart working, ma che possono essere anche lavorare in un luogo dove ci sia socialità e non solo in home working come è stato fatto in questo periodo e quindi dare la possibilità anche alle donne di contribuire alla ricchezza che possono apportare alla società con il loro lavoro, con la loro attività lavorativa. Sì, anche perché insomma si è creata anche una certa confusione tra lo smart working e la possibilità quindi di occuparsi della famiglia da parte della donna, quindi lo smart working viene inteso d'accordo, quindi la donna è a casa, può occuparsi dei figli perché è smart working, ma in realtà smart working significa lavorare a tutti gli effetti. Significa lavorare, ma vuol dire semplicemente lavorare non nella sede aziendale, vuol dire lavorare ovunque, si può anche lavorare in altri luoghi che possono essere appunto dei co-working che noi chiediamo alle organizzazioni, alle amministrazioni pubbliche di poter organizzare e gestire per far sì che le donne possano, le donne ma anche gli uomini ovviamente, ma soprattutto anche i giovani che possano più facilmente gestirsi le attività lavorative, quindi di conciliare vita e lavoro in luoghi che siano più vicini alle loro necessità. Quindi le donne non è che non vogliono gestire casa e lavoro, non è che non lo vogliono fare, però vorrebbero probabilmente avere dei supporti che consentissero loro di farlo in maniera più... Esatto, che attualmente manca, insomma, ma ricordiamo che la legge sul lavoro agile del 2017, però appunto nel frattempo in questo ultimo anno soprattutto lo smart working è cambiato radicalmente, quindi ci vorrebbe una revisione quantomeno di quella normativa. Ecco, io le faccio un'ultima domanda a dottoressa Ricci ed è proprio interna, insomma, la vostra categoria di consumenti del lavoro, siete appunto professionisti, professioniste, e questo lo sappiamo che incide, diciamo, doppiamente sul lavoro delle donne e quindi sulla crisi anche del lavoro femminile, e le chiedo quindi come vi state, insomma, rapportando con questa problematica. Beh, noi diciamo che anche la nostra attività di consulenti del lavoro ha visto una femminilizzazione negli ultimi anni, siamo arrivati quasi al 50% delle iscritte donne, consideri che dal 1979 la legge 12 istitutiva appunto dell'ordine dei consulenti del lavoro ha visto le donne crescere del 181%, mentre gli uomini solo del 51%, quindi siamo veramente tanti adesso, e se abbassiamo la fascia di età, diciamo, verso i 50 anni, sicuramente sono più le nuove iscritte che non gli uomini. Noi abbiamo da tempo ravvisato, però facendo appunto questi studi, lo facciamo sul settore italiano, lo facciamo anche al nostro interno, vediamo che il problema del pay gap è comunque un problema rilevante anche per noi, perché le donne guadagnano meno che gli uomini, e questo nonostante noi stiamo nel tempo aumentando tutte le attività che possiamo offrire a tutti gli iscritti all'ordine dei consulenti del lavoro, perché nel tempo noi abbiamo implementato il nostro bacino della nostra professione, cioè noi possiamo svolgere attività diverse, ma ci siamo anche guardati all'interno e abbiamo cercato di aiutare i colleghi con un sistema nostro che abbiamo cognato qualche anno fa, che si chiama Progetto Welcome, che è il welfare dei consulenti del lavoro. Noi abbiamo come autonomi, come tutti gli autonomi, un'assenza totale di tutele, e io stessa posso testimoniare che ho avuto due figli, ma sono stata a casa otto giorni per ogni maternità, perché comunque l'attività doveva essere portata avanti, e ha spinto quindi, quindi il mio caso era da donna, ma il nostro progetto aiuta giovani e meno giovani, donne e uomini, che si possono trovare in condizioni di non riuscire a svolgere la propria attività. Quindi il welfare che noi diamo è la possibilità di essere sostituiti in situazioni di difficoltà nello svolgimento della prestazione lavorativa, con la nostra commissione di pari opportunità, che è presso ogni singolo consiglio provinciale, ne abbiamo 106 in tutto il territorio, che gestiscono quindi il matching tra i colleghi che possono chiedere di essere sostituiti temporaneamente o affiancati da qualche collega, i colleghi che danno disponibilità all'affiancamento, che possono essere perché hanno più tempo, perché hanno specializzazioni particolari di nicchia, e quindi questo match viene fatto all'interno della nostra categoria e ci dà la possibilità di avere un paracadute, diciamo, nelle situazioni di difficoltà, che se no altrimenti ci costringerebbe ad abbandonare, cosa che avviene comunque, perché alcuni non hanno comunque altre soluzioni che non abbandonare l'attività. Certo, infatti l'abbiamo anche ricordato nel corso della giornata, facendo riferimento in particolare alla professione di avvocato, c'è in atto ormai da anni questo processo di femminizzazione della professione da un lato, ma dall'altro c'è un evidente blocco alla carriera nel momento in cui l'avvocato, l'avvocata, entra in maternità. E qui abbiamo insomma un doppio piano, dove si può agire da un lato, il piano appunto interno alla categoria, come avete fatto voi, istituendo appunto delle soluzioni di welfare e un piano chiaramente che riguarda poi il legislatore nazionale. Bene, dottoressa Ricci, io la ringrazio per essere stata con noi e per aver partecipato a questa maratona. Grazie a voi, gentilissimi. Grazie ad Antonella Ricci, consigliera nazionale dell'Ordine dei Consumenti del Lavoro e buonanotte. Buonanotte a voi e grazie per aver dato l'opportunità a noi di darvi il nostro contributo. Grazie di nuovo e qualche istante di pubblicità, la maratona continua.